Siamo con Costantino Maldisara, direttore commerciale operation di Grimaldi Gruppo, intanto un'esperienza comunque che apporta in questo board nel consiglio di ECG di anni, perché comunque non è il primo incarico, ma appunto è stato consigliere già anche negli anni passati. Quindi grande esperienza in questa realtà che ECG si parla di logistica, logistica anche in ambito portuale che è fondamentale e che ha un occhio particolare anche per quanto riguarda il discorso della tutela dell'ambiente. Parliamo di autostrade del mare, come si rilanciano oggi? Si rilanciano attraverso navi sempre più green, che sono in particolar modo eco-compatibili. Per esempio la Grimaldi sta investendo in modo abbastanza importante nell'utilizzo di batterie che vengono utilizzate quando le navi entrano nel porto, oppure altri concorrenti nostri che sono membri di ECG hanno investito per esempio nelle LNG. Quindi comunque è un settore che, sebbene negli ultimi anni ha ridotto un po' gli investimenti, quello del trasporto marittimo, delle autovetture nuove, continua ad investire per essere sempre più green. Il nostro gruppo ha investito negli ultimi anni circa quasi 3 miliardi di euro per rendere la flotta più eco-compatibile, quindi sempre migliore e sempre più adatta ai requirement più che legali, morali, di un ambiente migliore. Cosa c'è bisogno a livello generale? Come industria dell'auto sicuramente dobbiamo essere bravi nell'intercettare i vari cambiamenti. È un momento piuttosto critico dell'industria dell'auto in generale. È un momento di cambiamento. Forse questo è un momento di crisi dell'offerta più che della domanda. I consumatori vorrebbero comprare delle autovetture, ma in questo momento non sanno cosa comprare. È stato prima detto che le autovetture a benzina erano le peggiori, quindi tutti hanno comprato il diesel. Poi è stato detto che il diesel è peggiore della benzina e quindi le persone non credono più che nell'uno e nell'altro siano buoni per i propri investimenti. Magari si perde il valore dell'autovettura quando la si compra. Quindi si aspettano l'elettrico che ancora non è disponibile, quantomeno non è disponibile nella misura in cui possa essere facilmente fruibile. Quindi è un momento di attesa. C'è calo dei volumi un po' in tutta Europa. Noi stessi dobbiamo lavorare poi anche maggiormente per intercettare i cambiamenti anche della tecnologia. La nostra logistica dovrà investire ancora di più, non solo per essere più ecocompatibili, quindi camion, LNG, navi a batteri a litio o altre forme di miglioramento dei consumi, ma anche digitalizzandoci, quindi cercando di trovare quei sistemi che siano in grado di connettere con le autovetture stesse e quindi trovarne del beneficio. E su questo ECG, che è l'associazione europea che cura gli interessi dell'industria del trasporto delle autovetture nuove, lavora moltissimo su questo. Noi lavoriamo molto sulla digitalizzazione, lavoriamo molto sull'education, abbiamo un'academy, lavoriamo molto anche sui processi di lavoro. Quindi siamo concorrenti, però lo siamo quando combattiamo per guadagnarci il cliente. Poi lavoriamo insieme per rendere l'industria qualitativamente migliore. Quindi sfide anche dal punto di vista tecnologico. E come si guarda all'Oriente, i traffici del Faris, si parla molto anche della Via della Seta. Quindi qual è la sfida in questo senso per il futuro? Ma la sfida non so se viene da quello, piuttosto la sfida viene dalla tecnologia che corre e quindi cambia di parecchio i processi. Negli anni passati c'era più una corsa da parte delle case automobilistiche a raggiungere le periferie del mondo dove si riusciva a costruire a costi più bassi. Poi si è scoperto che questo non è proprio più necessario perché le autovetture hanno un alto contenuto tecnologico. E allo stesso tempo le fabbriche sono sempre più robotizzate. Quindi essendo queste più robotizzate c'è bisogno di nuovo di una tipologia di operatore che è più adatto invece alle vecchie economie. Quindi alle vecchie, insomma ai paesi occidentali. Non a caso l'America riprende ad investire. Se qualcuno l'avessi detto cinque anni fa avrebbe dato a quella persona del pazzo. Eppure per esempio la FCA ha investito mi pare oltre un miliardo di dollari per convertire una fabbrica a Detroit. Lo stesso le fabbriche europee stanno incrementando la loro capacità produttiva salvo alcune aree che danno una certa preoccupazione come per esempio la Gran Bretagna. Quindi è un settore che sicuramente si rivitalizzerà parecchio appena avrà superato questa crisi dell'offerta. Non appena le autovetture finalmente elettriche o ibride, i nostri clienti finalmente ce le renderanno disponibili. Finalmente il nostro produttore nazionale lo sta per fare, lo farà in tempo rispetto alle regole internazionali. Le dico finalmente perché così anche i clienti del gruppo FCA potranno godere di autovetture elettriche così come la FCA sta facendo.